Questa cosa, questa discrezione nella brevità, però non nella sostanza, credo sia presente qua questa sera il compositore che è, insomma, il gruppo si chiama Meteor e il brano si chiama Composizione 1 per cui ho preso cos'era prima che ho fatto. No? Beppe? Sì. Sì? No? Ah, è vicino, lo possiamo corsare di un po' di un po' di un po' di un po'. Eh, se passiamo a quello che deve, secondo me, più riparsi così. Eh, niente, dove lo seguiamo? Eh, due. Che dicevo di buono? Bene. Che gnocchino. Questa, ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.